Zero campi romadi entro cinque anni, l'annuncio del ministro Salvini commentato dall'esponente trevigiano del Consiglio Nazionale Roma, smantellamento dell'interesse di tutti, dice ma servono soluzioni alternative. Voleggiano da ieri le parole, l'annuncio del ministro dell'interno Salvini di volere chiudere entro i prossimi cinque anni, entro la fine della legislatura, tutti i campi rom presenti in Italia. Il Consiglio Nazionale Rom oggi dice per bocca del suo esponente trevigiano lo smantellamento è nell'interesse di tutti ma va fatto con criterio. Il mio obiettivo in collaborazione con i sindaci di tutta Italia è arrivare nell'arco del mandato di questo governo alla chiusura di tutti i campi rom in ogni città italiana, quindi non è oggetto di questo decreto, ci stiamo lavorando parallelamente con tutti i sindaci che hanno chiesto l'intervento del Ministero dell'interno, l'obiettivo è campi rom zero. La questione rom rimane fuori dal decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, ma il capo del Viminale Salvini nel corso della conferenza stampa con il Premier Conte spiega chiaramente che il tema resta centrale nella sua agenda. Se dunque la proposta dello smantellamento dei campi rom presenti in Italia entro la fine della legislatura riaccende la discussione il Consiglio nazionale rom-sinti non chiude la porta al progetto del Ministro dell'Interno. E nell'interesse, nella filosofia del popolo rom e quindi la zona rom-sinti-cabinati il superamento di questo, questo passaggio deve essere fatto con i giusti strumenti nel rispetto però delle regole democratiche. Vittorio D'Arios spiega come gli sgomberi rappresentino sempre un momento scioccante soprattutto per i più piccoli. Per questo, dice, il superamento dei campi va visto come un'opportunità per migliorare le condizioni dei rom e per questo richiede una chiara programmazione. Tu devi prima trovare soluzioni alle persone, non puoi sgomberare, tu sgomberi, chiedi però prima di fare soluzioni. Un ultimo messaggio è proprio per il Ministro Salvini. Salvini conosce il problema, come dovrebbe fare un Ministro della Repubblica Italiana dentro il concetto di diritto e dentro la Costituzione dare risposte adeguate.